. Ventimiglia, grande successo di partecipanti per la terza edizione dello Street Basket . Si è chiusa domenica scorsa la terza edizione di Ventimiglia Street Basket. . Dopo la grande serata di sabato in cui 21 squadre junior si sono sfidate fino all'ultimo secondo con la vittoria andata a due compagini di Alassio, domenica 15 squadre senior, 56 giocatori, hanno dato vita ad una grande serata. . 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